Allora, commissario di pista, ci può dare il via per favore con il display luminoso? Ecco, io direi che quando si passa sul presostato parte di conteggio. Allora, non è facile partire questo luogo. E io vai qui però che continua ad avere il piede sulla gelatina, il piede è pesante. Cosa deve fare? Sto scaldando, sto scaldando. Ah, però, è una piazza. Ma quindi si sente che il posteriore, ecco, quel bit che è stato, è partito il tempo. A partire il tempo il cronometro comincia a contare all'indietro 43 secondi che dobbiamo impiegare. e comunque è il via con cui dovrebbe avere l'ago ghiacciato. Adesso è chippato perché sono diventati 30 e comincia il countdown. 25, 24, 23, 22. Dobbiamo fare tutto il giro, Ivan, perché questa è l'altra concorrente che dovrà fare insieme a noi. Vesco, Roberto Vesco, non so...